Il mondo della moda viaggia ad una velocità diversa da quella a cui sono abituati i comuni mortali e per questo quando c'è qualche polemica in giro si diffonde a macchia d'olio e in un batter d'occhio prima sui social network e poi tra le persone. Elisa Dospina, modella Carvey ed editor di Vogue, ha portato all'attenzione del web una notizia che coinvolge direttamente i vertici più alti del brand di lingerie La Perla. Nello store new yorkese del marchio infatti sono comparsi dei manichini letteralmente scheletrici con le costole bene in vista. Tutto questo per la presentazione della collezione di costumi ma l'effetto è stato deleterio. Immediate le denunce contro la diffusione di canoni di bellezza irraggiungibili propinati invece come alla portata di tutti contro l'eccessiva magrezza delle modelle in passerella contro una donna tutta pelle e ossa. La Perla si è vista costretta a ritirare i manichini indigenti dopo il pesante monito di Seth Matlins di Truth in Advertising, un'associazione che si batte contro le pubblicità ingannevoli e ha dovuto fare i conti col popolo rosa dei social, con le taglie morbide, insomma con le donne reali.